buongiorno a tutti ben arrivati a ti assicuro una mezz'ora questa è la prima puntata del nostro canale tv ho l'onore di avere con me al primo alla prima nostra puntata giuseppe prete grazie per aver accettato il mio invito grazie a te è un onore da parte mia essere qui al tuo debutto grazie al mio lato invece destro abbiamo i nostri due responsabili della nostra rubrica ti assicuro una mezz'ora che nei prossimi mesi raccoglieranno le vostre domande sul temi assicurativi che di volta in volta ci provi proporremo e che poi svisceranno loro i discorsi cristian leo piacere buongiorno a tutti ecco e casian buongiorno a tutti bene allora giuseppe ti posso dare del tuo ci dobbiamo dare perfetto allora tu sei stato un componente del pension forum della bocconi di milano nel 2002 e sei stato anche candidato come direttore dell'inps nel 2013 presidente presidente adesso un tema che comunque è importante al giorno nostro è la pensione il futuro che abbiamo noi giovani nell'affrontare comunque diciamo uno sguardo sicuro il nostro futuro pensionistico tu che hai lavorato a stretto contatto proprio per tutelare il nostro futuro pensionistico hai qualche cosa da dire in merito al riguardo guarda se avessi lavorato per tutelare il vostro futuro pensionistico sicuramente avrei gestito l'inps in maniera diversa da come è stata gestita oggi e sicuramente se fossi stato anche un legislatore avrei tolto la possibilità al legislatore quindi alla politica di usare l'inps come bancomat per la politica perché ovviamente se oggi non siamo in grado di garantire un futuro ai nostri giovani è perché evidentemente hanno lavorato male quindi se avessi potuto lavorare io sull'inps che è quello che poi ho tentato di fare ma evidentemente non è piaciuta perché non avevo nessun appoggio politico dietro ma era semplicemente uno che avendo esperienza in questo ramo e quindi conoscendo proprio tutti gli aspetti le dinamiche assicurative sicuramente avrei lavorato meglio però purtroppo non è così il tema dell'inps è il tema della pensione è un tema molto 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 delicato e devo dirti non perché io ci tengo a scoraggiarvi e a scoraggiare i giovani però è già compromesso ma è compromesso non da oggi ma era già compromesso ai tempi nel 1993 quando scoppiò il famoso buco all'inps quando si scoprì il buco dell'inps e da lì poi ovviamente diciamo poi tutta una catena di situazioni che sono emerse comprese anche la recessione perdita dei posti di lavoro perché poi insomma oggi c'è stato un aumento anche di di perdita dei posti di lavoro di disoccupazione e quant'altro ovviamente tu sai benissimo che le pensioni si pagano sulla base della raccolta cioè raccolgo dai giovani lavoratori o dai lavoratori per poi pagare gli stessi lavoratori che andranno in pensione quindi è un ciclo, è una cassaforte purtroppo oggi abbiamo sempre meno entrate ci sono sempre meno entrate anzi diciamo che ormai le entrate sono inferiori rispetto alle uscite e allora mi spiace ma veramente diventa un discorso un po' troppo complicato dire che i giovani possano pensare a un futuro pensionistico per questo sempre nel 1993 introdussero i famosi fondi pensione creando questa pensione alternativa ecco infatti appunto per questo ti volevo chiedere so che comunque tu hai cercato di dare un apporto al sistema attuale anche perché ci sono metodi alternativi per crearsi una propria pensione grazie anche alla deducibilità fiscale di alcuni fondi sì diciamo che quando sono nati i fondi pensione sempre nel 1993 vi ricordate quindi con la legge Dini poi Amato e quant'altro nacquero i fondi pensione e gli aspetti deducibili erano solo e esclusivamente riservati per i fondi pensione chiusi cioè quelli di categoria e quindi solo per chi poteva avere accesso al fondo pensione chiuso invece c'era tutta un'altra categoria che erano per esempio i liberi professionisti ma anche i dipendenti di aziende private che non potevano che non avendo un contratto aziendale sindacale dietro non potevano accedere a questi fondi pensione quindi nel 2007 mi ricordo che con il Passion Forum nel 2006 riuscimmo ad ottenere a presentare all'allora era il Ministro Maroni riuscimmo a presentare questa proposta che poi diventò legge che ci fu la famosa equiparazione dei fondi fondi aperti e fondi chiusi e quindi diventarono deducibili anche i fondi aperti però l'introduzione di questi fondi sia chiusi successivamente poi aperti furono introdotti proprio perché si sapeva già a quell'epoca negli anni 90 che la pensione era già compromessa perché è una questione di numeri se i numeri sono inferiori è normale che io devo trovare una soluzione alternativa la soluzione alternativa quella che ci hanno detto e che ci stanno dicendo ancora tutt'oggi è quella che dobbiamo crearcela da soli la nostra pensione poi per carità si spera sempre che si possa riprendere tu comprendi che in un momento anche in questo che stiamo vivendo dove purtroppo in questa fase anche di in questo 2020 dove per colpa del covid del virus del lockdown c'è questo aumento anche massiccio di perdite di posti di lavoro e tu puoi immaginare che sono comunque entrate sempre più basse nella gestione separata dell'Inps non solo questo ricorso continuo anche alla cassa integrazione perché comunque la cassaforte è sempre quella la cassaforte dei lavoratori quindi da una parte c'è questo ricorso continuo alla cassa integrazione cassa integrazione ordinaria straordinaria e poi c'è questo aumento di disoccupazione quindi ci saranno meno entrate noi paghiamo ancora oggi delle pensioni d'oro che valgono oltre 50 miliardi di euro per non dirti poi altre altre pensioni e delle baby pensioni le famose baby pensioni quando si andava in pensione a 19 anni che pesano ancora tutt'oggi perché sono in vita hanno 50 anni pesano ancora oggi sulle nostre casse e sul vostro futuro pari a 7 miliardi di euro circa quindi diciamocelo proprio francamente non voglio essere quello che dà la brutta notizia però effettivamente la pensione parlo anche per i miei figli la pensione del futuro è compromessa c'è un figlio che è andato in Germania a lavorare è sicuro che lì avrà una pensione in Italia la vedevo veramente dura tranne se non ti fai una pensione alternativa tua allora sì in questo caso conviene sottoscrivere dei fondi pensione perché è l'unico futuro certo con tutto che poi ovviamente avrai la detrazione e la deducibilità fiscale vantaggiosa quando hai parlato appunto di calo del lavoro comunque di un rapporto fra attuali lavoratori e pensionati questo rapporto adesso si sta sbilanciando e si sbilancerà anche nei prossimi mesi perché con covid molte aziende potranno chiudere e quindi il numero dei lavoratori diminuirà conseguentemente ci potrebbe essere una crisi nei prossimi mesi allora se ricordiamo la vecchia la vecchia purtroppo la riforma Fornero sì la riforma Fornero che cosa ha di fatto ci ha portato come novità a quell'epoca quando subentrovo la Fornero il governo Monti il governo tecnico già avevamo chiara l'idea che non aveva l'Inps più i soldi per pagare le pensioni non per i giovani che ancora devono entrare nel mondo del lavoro ma per noi che siamo ancora i dipendenti per cui la liquota abbassa i coefficienti diminuiscono ancora tutt'oggi quando io andrò in pensione mi troverò sempre ogni anno ogni due anni un adeguamento del coefficiente perché è stato parametrato all'aspettativa di vita però la manovra Fornero a che cosa è servita in sostanza è servita ad allungare i tempi ad allungare i tempi delle uscite pensionistiche che erano già programmate con 40 anni di attività e quindi la riforma Fornero ha spostato di 7 anni in avanti l'uscita pensionabile i 7 anni sono arrivati i primi pensionati cominciano a uscire fuori ci sono anche l'aumento dei disoccupati quindi siccome la riforma è legata all'aspettativa di vita vorrei dire che si andrà in pensione a 70 anni se non anche oltre che è già prevista nella riforma Fornero quindi più diventa difficile il percorso più diventa difficile pagare le pensioni più si allungano le aspettative di vita e più diventa per noi che già lavoriamo un miraggio uscire dal lavoro perché con tutte l'età che noi abbiamo diventa difficile e diventa difficile per i giovani entrare nel mondo del lavoro perché per avere la pensione minima tu sei benissimo perché sei un esperto anche tu nel mondo assicurativo bisogna almeno avere 20 anni di contribuzione per avere la minima 20 anni di contribuzione quando li hanno se oggi l'ingresso nel mondo del lavoro in tempi normali era già sui 30 anni 30-35 anni con tutto che poi ci sono state le perdite dei posti di lavoro e adesso purtroppo con questa situazione Covid la situazione sta diventando ancora più onerosa e quindi le entrate sono inferiori rispetto alle uscite molti infatti dei nostri teletespettatori hanno dimostrato tramite appunto un sondaggio che hanno difficoltà anche a raggiungere l'età pensionabile che hanno lavorato per 15 anni 10 anni in un'azienda e poi hanno dovuto interrompere comunque l'attività lavorativa e ad oggi si ritrovano in un'età in cui non riescono più ad accedere al mondo del lavoro e hanno ancora come minimo 5-10 anni di contributi per potervi accedere è un problema ad oggi grave quello delle pensioni soprattutto dell'Inps cos'è che dovrebbe fare lo Stato com'è che ci potrebbe aiutare qual è una visione io ho fatto una proposta che era quella che poi io avrei voluto portare alla politica se mai avessero tenuto in considerazione la mia proposta la mia candidatura presidente dell'Inps io avrei voluto fare delle norme completamente diverse intanto slegare la politica dalla gestione separata perché la gestione separata è la cassaforte dove entrano e escono le nostre pensioni e quindi io già questo lo volevo fare non solo volevo affidare anche la gestione separata dell'Inps cioè delle nostre pensioni a un pool di compagnie di assicurazioni esperte quindi volevo proprio sottrarla al legislatore ma anche agli stessi componenti dell'Inps che alcuni sono addirittura di nomina politica insomma io volevo proprio togliere la politica dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che ricordiamo è una nostra compagnia di assicurazioni anche se pubblica e quindi è del cittadino e del lavoratore l'Inps e quindi volevo assolutamente togliere l'altra cosa che avrei fatto evidentemente avrei tolto anche dalla gestione separata la cassa integrazione perché la cassa integrazione questo continuo ricorso alla cassa integrazione va bene ma fino a un certo punto nel senso che io devo avere una visione di medio-lungo periodo nel momento in cui io concedo una cassa integrazione speciale straordinaria io devo altrettanto essere sicuro che l'azienda mi garantisce la riassunzione del dipendente e la continuità ma nel momento in cui fa ricorso alla cassa integrazione e poi mi licenzia il dipendente da una parte ho tolto delle liquidità dei risparmi dalle pensioni a noi e immaginatevi a voi giovani e dall'altra parte l'azienda non ha rispettato di quelle che sono le regole fondamentali la cassa integrazione è alla fine un fondo di solidarietà e quindi io accetto di pagare il fondo di solidarietà perché domani posso io trovarmi nelle condizioni di dover accedere alla cassa integrazione ma chi parlo per l'azienda fa ricorso deve garantire la riassunzione cosa che purtroppo la politica è mancata la politica non ha mai gestito e quindi tu puoi immaginarti che cosa è successo e che cosa succede ancora oggi all'interno dell'Inps tra l'altro poi diciamolo apertamente quando tu mi dai la gestione dell'Inps in mano a persone che ovviamente non ne hanno né competenze non hanno addirittura i requisiti i requisiti per poter diventare Presidenti anche se poi il Presidente non ha un ruolo operativo perché il ruolo operativo spetta comunque la direzione generale a chi gestisce però il Presidente comunque ha un ruolo molto importante che è quello di governo di controllo e quindi se tu mi dai questa Presidenza in mano sempre alla politica e la politica mi mette dentro delle persone che non hanno mai avuto competenze nel mondo assicurativo non hanno i requisiti perché per essere Presidente dell'Inps bisogna avere i requisiti io ce li avevo tutti purtroppo hanno scelto Boeri che i requisiti erano stati dichiarati non legittimi ma che Renzi poi fece una proposta un decreto per rinominarlo Presidente e allora voglio dire noi paghiamo purtroppo le colpe di questa politica che gestisce male la nostra cassa gestisce male le nostre pensioni e ancora tutt'oggi la usa come Bancomat perché io la chiamo un vero Bancomat della politica quindi bisogna accedere concludo è chiaro che oggi devi fare il fai da te quindi ci sono questi fondi pensione danno queste agevolazioni fiscali molto alte perché quando poi li farai e li farete conoscere nelle prossime trasmissioni nelle prossime puntate farete vedere anche la convenienza perché la deducibilità fiscale proprio perché non hanno alternative è stata comunque premiata ed è molto alta quindi voglio dire la deducibilità fiscale non ti fa coprire tutto l'importo che devi comunque anticipare te e quindi te lo anticipa lo Stato per sappiamo per le varie aliquote eccetera e quindi è chiaro che oggi se vogliamo avere un futuro tu parlavi prima di un lavoratore che a 15 anni non può accedere alla pensione minima perché abbiamo detto che il requisito minimo è 20 anni allora deve farsi un fondo pensione personale purtroppo deve accantonare una liquidità non deve comprarsi una pizza deve rinunciare ad andare una sera in una pizzeria questa è l'Italia oggi il far west delle pensioni deve crearsi questo suo fondo pensione aperto chiuso quello che sia e per poi dopo riservarsi nel caso in cui non dovesse raggiungere i requisiti con quella percentuale che ha versato in questo suo fondo pensione eventualmente integrare la parte mancante purtroppo è questa la situazione e quindi benvengano queste trasmissioni come le vostre che proprio informano i cittadini e che soprattutto i giovani anche i genitori stessi che hanno dei figli che sono disoccupati devono loro stessi pensare che possono anche dedurre possono loro stessi pensare di fare dei fondi pensione per i propri figli perché bisogna cominciare già a pensare oggi non aspettare a 30 anni a 40 anni quando iniziano a lavorare perché poi dopo se non cambiano la riforma Fornero e non raggiungi quei requisiti in pensione non ci vai o comunque non prendi nemmeno la minima benché poi sappiamo che insomma è sotto i 500 euro oggi certo poi ovviamente diciamo che è un po' il lavoro della formica rispetto alla cicala questo è come io la vedo quindi mettere da parte pian piano qualcosa per un futuro va bene intanto facciamo partire il filmato e ci riaggiorniamo tra poco il filmato Eccoci di nuovo in programma. Grazie, volevo chiedere a Giuseppe l'ultima domanda, poi so che hai mille impegni, ti lascio andare, spero poi di riaverti in un'altra puntata quando affronteremo i trust, spero di riaverti nel mio studio. Va bene. Io volevo farti una domanda adesso un po' più personale, so che comunque hai dei figli. Sì, due. Io mi chiedevo questo, da un punto di vista pensionistico, com'è che hai pensato alla loro tutela, tu nella tua realtà? Ma il primo, il più grande, appena finita l'università, l'ho introdotto nel mondo assicurativo, ho detto così, hai la visione di quella che è il futuro. Poi si è messo a fare l'imprenditore, però conosce a fondo il tema assicurativo e il tema anche pensionistico, tant'è che fa anche consulenza assicurativa. Sul secondo invece meno, non ce l'ho fatta perché il secondo aveva altre ambizioni, altre ispirazioni, è un artista e quindi in Italia ha provato a cercare un lavoro, ma con la Jobs Act di Renzi ti assumevano per un giorno, con i voucher due giorni, per poi darti alla fine dei due anni il contentino, ti salutavano e dovevi rimetterti da capo a cercare un lavoro e che non ti garantiva neanche il sistema pensionistico, non ti garantiva una base pensionistica perché tu lavoravi sempre, giorno per giorno, sempre a contratti a tempo determinato, ma anche brevi. Quindi c'erano anche periodi in cui stava fuori, quindi il rischio era che lavorava vent'anni senza averli mai fatti vent'anni. A che ha deciso, come tanti hanno fatto, ahimè, come tanti hanno fatto di lasciare l'Italia e di andare all'estero. Di andare all'estero è andato in Germania dove la base è più solida, il sistema pensionistico regge, regge molto bene, paga e quindi come tanti, pensi che noi abbiamo 150.000 giovani l'anno che lasciano il paese Italia e che vanno a cercare fortuna fuori, in virtù anche del fatto che lavorando fuori hanno anche la garanzia della pensione, pur lavorando anche di meno. Questo è il problema e quindi ti ho risposto alla domanda? Assolutamente sì. Ti ringrazio per essere stato con noi. Adesso trasmettiamo il nostro prossimo programma. Seguiteci ancora. Partecipa anche tu alla rubrica di Ti assicuro una mezz'ora. Potrai ricevere dei consigli dagli esperti in ramo assicurativo e finanziario. Salve, sono Stefano, 25 anni di Brescia. Vivo ancora con i miei genitori. Mio padre mi fece una polizza di accantonamento personalizzata per quando avessi raggiunto la maggiore età e ora vorrei incassare il premio. Come devo fare? Sono ancora in tempo? Grazie per le risposte. Ciao Stefano. Le polizie di accantonamento hanno una scadenza prefissata alla stipola del contratto. Dopo la scadenza hanno un limite temporale di 10 anni in cui il cliente può fare richiesta delle somme versate. Nel tuo caso la scadenza era ai 18 anni, tu adesso ne hai 25, quindi sei ancora in tempo per richiedere le somme versate. Non dovresti però aspettare oltre, perché passati questi 10 anni le somme accantonate da tuo padre andrebbero a finire in un fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e andrebbero perse. Partecipa anche tu alla rubrica di ti assicuro una mezz'ora. Potrai ricevere dei consigli dagli esperti in ramo assicurativo e finanziario.